In Inghilterra, nel cuore della notte, tre attivisti per i diritti degli animali fanno eruzione nel centro di ricerca sui primati di Cambridge, dove le scimmie vengono sottoposte ad esperimenti con video di rabbia, violenza e distruzione umana. Mentre gli attivisti iniziano a scattare foto, uno scienziato le scopre e si precipita a chiamare la sicurezza. Il gruppo lo ferma appena in tempo, così lo scienziato gli prega di non fare nulla perché gli scimpazzè sono infettati da un virus altamente contagioso. Tuttavia gli attivisti non lo prendono sul serio e liberano uno degli scimpazzè, che subito attacca e morde una donna con una furia incontenibile prima che uno degli altri lo uccida. Mentre gli altri scimpazzè impazziscono nelle loro gabbie, la donna inizia a vomitare sangue sul pavimento e sul viso del suo amico. Lo scienziato dice che devono ucciderla, ma è troppo tardi. Lei si trasforma in uno zombie e attacca tutte le persone presenti. 28 giorni dopo, Jim si sveglia dal coma in un ospedale vuoto. Esce dalla stanza e si aggira in cerca di persone, ma non trova nessuno. Dopo aver preso delle bevande da un distributore automatico, lascia l'edificio per esplorare Londra. Trovando la città nel caos, è vuota. Apprende che la Gran Bretagna ha subito un esodo di massa e su un'enorme bacheca trova migliaia di manifesti di persone scomparse. Alla fine Jim entra in una chiesa dove trova messaggi inquietanti sulle pareti. Quando raggiunge la sala principale, rimane scioccato nel vedere che è pieno di corpi in decomposizione. Dice ciao e alcune persone si muovono improvvisamente, fissandolo con il volto vuoto. In quel momento esce il prete, ma è uno zombie e cerca di attaccare Jim, che lo colpisce con la sua borsa piena di lattine. Il prete non si lascia intimorire e cerca di inseguirlo, così Jim scappa. Anche gli altri zombie escono dalla chiesa e iniziano ad inseguire Jim, raggiungendo una stazione di servizio. Lì sopravvissuti Mark e Selene iniziano a lanciare bombe molotov contro gli zombie. E una volta che Jim è al sicuro, lanciano una bomba contro la stazione di servizio facendola saltare in aria. In seguito il duo porta Jim a loro nascondiglio, un negozio di dolce abbandonato nella metropolitana. Quando Jim racconta di essere stato in coma a causa di un incidente stradale, Selene spiega che un virus altamente contagioso è fuggito da un centro di ricerca e continua a diffondersi in modo incontrollato, trasformando le persone in zombie e facendo crullare la società britannica. La maggior parte della popolazione è ormai morta e il governo non esiste più. Jim vuole andare a casa dei suoi genitori per controllare come stanno, e ignora gli avvertimenti di Selene che molto probabilmente sono morti, così lei e Mark accettano di andare con lui. Al mattino, il trio attraversa con cautela una Londra molto vuota e arriva sano e salva la vecchia casa di Jim, dove sconvolto scopre che i suoi genitori si sono suicidati per evitare di diventare zombie. Gli hanno anche lasciato un biglietto con scritto, non svegliarti. Mentre Jim piange, Selene e Mark gli dicono che dovrebbe essere grato che la sua famiglia sia morta seneramente, perché loro hanno dovuto vedere le loro famiglie diventare dei mostri. Passano la notte in quella casa, ma Jim non riesce a dormire e decide di guardare i vecchi video di famiglia. La luce rivela la sua posizione e all'improvviso due zombie saltano dalla finestra per attaccarlo. Mentre Jim lotta per difendersi, attira l'attenzione di Mark e Selene, che sconfiggono subito le due creature. Poi Selene si assicura che Jim non sia stato morso e che non gli stia finita nemmeno una goccia di sangue in bocca. Purtroppo il ferito è Mark, la cui ferita al braccio è ricoperta di sangue di zombie. Senza esitare, Selene colpisce a morte Mark con il suo macete prima di annunciare che devono andarsene. Dopo essersi lavati, cambiati e raccolto tutte le provviste, Jim e Selene lasciano l'aria e lei avverte Jim che se qualcuno è stato infettato deve essere ucciso immediatamente. Non importa se si tratta di un parente o di un amico. Più tardi vedono delle luci lampeggianti provenire da un appartamento e vanno ad indagare. L'edificio è in uno stato pietoso e l'altro è pieno di carrelli, ma il due lo scavalca per raggiungere le scale. Ci sono diversi piani da salire e quando si fermano per fare una pausa, sentono gli strelli degli zombie che sono entrati nell'edificio. Anche loro saltano sui carrelli per salire le scale, così Jim e Selene iniziano a salire più velocemente. Dopo aver salito alcuni piani, si bloccano quando trovano una strada sbarata da un uomo che indossa un equipaggiamento protettivo e dà loro il numero e la posizione del suo appartamento. L'uomo rimane a combattere gli zombie, fermandoli con uno scudo mentre li picchia con una mazza. Il due riesce a raggiungere finalmente l'appartamento, ma la ragazza all'interno non apre la porta finché l'uomo non torna. Una volta entrati, Frank e sua figlia Anna si presentano. Questo è l'appartamento con tutte le luci e Frank è finalmente contento che il suo segnale abbia finalmente portato un po' di compagnia. Il giorno dopo Frank mostra a Jim tutti i secchi che ha sul tetto, spiegando che è da un po' che non piove. Le risorse scarseggiano ogni giorno di più e di questo passo non potranno restare in questo appartamento ancora per molto. Poi Frank mostra loro una trasmissione radiofonica militare che afferma che i soldati stanno offrendo protezione ad altri sopravvissuti fuori Manchester. E promettono addirittura la risposta all'infezione. Frank vuole ricarsi sul posto, ma Selene è scettica, dicendo che probabilmente si tratta di una trappola o di una vecchia registrazione non più valida. Anna convince tutti che vale la pena rischiare. Poi il gruppo prende il taxi di Frank per andare a Manchester, portando con sé tutte le provviste possibili. Mentre attraversano Londra, vedono tutta la distruzione e i corpi per le strade. Quando cercano di attraversare un tunnel, la strada è bloccata da corpi e auto incidentate, ma Frank decide di attraversarlo. Ma l'auto buca una gomma. Quando il gruppo esce per cambiare la gomma sentono un suono molto strano e vedono improvvisamente centinaia di topi che corrono verso di loro. Il che fa capire che gli zombie stanno arrivando. Non c'è tempo per usare altre attrezzi. Così gli adulti sollevano l'auto mentre Anna cambia la gomma. Vedono le ombre degli zombie che si avvicinano e presto saltano sui veicoli incidentati. Ma il gruppo finisce di cambiare la gomma appena in tempo e riesce ad allontanarsi. In seguito continuano a guidare per alcune ore e quando arrivano in campagna si fermano per fare benzina da un veicolo abbandonato. Incuriosito Jim decide di entrare nell'edificio e trova una famiglia morta. Improvvisamente viene attaccato da un bambino zombie e non ha altra scelta che ucciderlo. Poi continuano a viaggiare attraverso la campagna che sembra ancora bellissima. Quando si fermano per la cena guardano i cavalli correre senza preoccuparsi del mondo. Selene ammette che è stato meglio di quanto si aspettasse e bacia Jim sulla guancia. Quella notte il gruppo soggiorna in un vecchio castello in rovina. Anna e Jim non riescono a dormire e svegliano a Selena per chiederle come fa. Così Selena condivide a loro la sua medicina. Al mattino Jim si sveglia e scopre di essere solo, quindi inizia a farsi prendere dal panico. Tuttevia Frank lo sveglia rivelando che si trattava solo di un sogno. Il giorno dopo il gruppo riprende il viaggio e vede Manchester bruciare in lontananza. Alla fine trovano il blocco del messaggio ma nonostante la presenza di un veicolo e attrezzature militari è tutto vuoto. Selena pensa che dovrebbero andarsene ma Frank si rifiuta di ammettere la sconfitta e continua per lustrare la zona. Si arrabbia a tal punto che, quando sente un corvo nelle vicinanze, prende a calci il muro per farlo volare via. Il corvo si era nutrito di uno zombie e quando si muove fa cadere una goccia di sangue nell'occhio di Frank. Sapendo cosa sta per accadere, dice ad Anna che la ama e le chiede di stare lontana da lui. Anna cerca comunque di avvicinarsi a lui e mentre il virus reagisce, un Frank furioso spinge via la figlia. Poi si allontana mentre inizia a trasformarsi. Così Selena dice a Jim di ucciderlo mentre tiene ferma Anna. Jim si blocca ma fortunatamente vengono salvati dall'arrivo improvviso di alcuni soldati che abbattono Frank. In seguito i soldati portano Jim, Selena e Anna in una villa protetta nel bosco dove alcuni soldati sopravvissuti hanno creato una nuova base, fortificandola contro gli zombie. Il leader, il maggiore West, li accoglie e offre loro cibo e una doccia. Una volta sistemati, Anna rimane a dormire e Selena ha un crollo davanti a Jim. Lui cerca di confortarla con un bacio e Selena ricambia. Ma quando si rende conto di ciò che sta accadendo, lascia la stanza. Poi Jim va dal maggiore West per chiedere la risposta all'infezione di cui parlava il messaggio radio. Si scopre che non hanno la cura, ma West ritiene che la sua risposta sia costituita da tutti i piani di sicurezza extra che hanno installato intorno alla casa e dalle scorte in cucina. West rivela di aver catturato anche un soldato zombie che viene tenuto incatenato nel cortile della villa per essere studiato. Jim pensa che sia crudele, ma West dice di voler imparare cosa serve per far morire di fame uno zombie. Che potrebbe essere la vera risposta di cui hanno bisogno. La sera, il gruppo di Jim accina con i soldati e rimangono un po' intimoriti dal loro comportamento. West indossa l'uniforme e insulta il ragazzo che ha preparato la cena per aver commesso un errore. Inoltre presume che Anna possa occuparsi della cucina. All'improvviso suona un allarme, così tutti i soldati corrono fuori per difendere la villa dagli zombie in arrivo. Gli uomini raggiungono rapidamente le posizioni assegnate e aprono il fuoco, uccidendo decine di zombie e creando esplosioni che sconfiggono i nemici in pochi minuti. Quando i soldati tornano all'interno, Mitchell cerca di approfittare di Selena, così Jim cerca di allontanarlo. Grazie al suo addestramento, Mitchell lo sovrasta facilmente e il sergente Farrell deve colpirlo più volte per farlo smettere. In quel momento West arriva e dice a tutti di andare a pulire i corpi, poi parla con Jim in privato. West spiega che qualche giorno fa ha trovato un soldato di nome Jones che stava per suicidarsi perché non c'era futuro. Per riportare la speranza, West ha promesso ai suoi uomini che avrebbe portato a loro delle donne per ripopolare la terra dopo aver fatto morire di fammi di zombie. Per questo ha inviato il messaggio radio. In un ridito Jim prende le due ragazze e cerca di andarsene con loro, ma vengono subito catturate dai soldati. Farrell cerca di difenderle perché anche lui non è d'accordo con il piano di West, ma viene catturato. Jim e Farrell vengono rinchiusi insieme e Farrell dice che l'infezione non può avere attraversato i mari, quindi molto probabilmente il resto del mondo sta bene. Questa affermazione dà speranza a Jim. Al mattino, Mitchell e Jones portano i prigionieri nella foresta per giustiziarli. Farrell li rimprovera per aver tradito il loro stesso sergente e ne nasce una discussione. Jones vuole sparare a loro per fare in fretta, mentre Mitchell vuole pugnararli e godirsi la scena. Un disperato Jones spara comunque, uccidendo Farrell ma ferendo anche Mitchell a braccio. Mentre Mitchell salta addosso a Jones per urlargli contro, Jim ne approfitta per sparire. Appena i soldati se ne accorgono, vanno a cercarlo, ma si scopre che Jim ha finto di essere un cadavere sul mucchio. Poi Jim riesce a fuggire saltando il muro, lasciandosi dietro la maglietta. I soldati si accorgono e decidono di lasciarlo stare, pensando che non possa sopravvivere agli zombie. Mentre Jim fugge nel bosco, improvvisamente inciampa e cade. Con sua grande sorpresa vede un jet che vola, il che significa che la teoria di Farrell secondo cui il resto del mondo sta bene è corretta. Nella villa i soldati vogliono far indossare a Selene e Anna dei bei vestiti per una notte di riproduzione. Selene cerca di opporsi senza successo, quindi cambia tattica e bacia un soldato, flirtando mentre gli chiede di lasciarle un po' di privacy per cambiarsi. I soldati accettano e dopo aver lasciato la stanza, Selene danno un po' della sua medicina per rendere l'esperienza meno traumatica. Il soldato sente tutto questo e si precipita all'interno, ma prima che possa fare qualcosa sentono di nuovo l'allarme. Si scopre che Jim è lì e sta suonando l'allarme di proposito. Ben presto West e un altro soldato avverivano e iniziano a perlustrarle la zona, così Jim si aggira furtivamente e tende un'imboscata al soldato per abbatterlo. Quando West si accorge che il suo compagno è scomparso, si guarda intorno e lo trova morto nella sua jeep, quindi apre il fuoco. Poi cerca di andarsene con la jeep, ma questa è stata disattivata e in quel momento uno zombie salta sopra il veicolo. West lo abbatte immediatamente prima di uscire dal veicolo per uccidere tutti gli altri zombie. Una volta finito, torna di corsa alla villa. Nel frattempo anche Jim torna alla villa e con l'arma rubata dalla jeep, libera lo zombie incatenato, che salta immediatamente attraversando la finestra per attaccare i soldati che sorvegliano le ragazze. Mentre Selena ne approfitta per trascinare via Anna, lo zombie vomita sangue su un soldato e inizia ad inseguire Jones. Anche il primo soldato diventa uno zombie. Selena e Anna cercano di uscire, ma vengono bloccati da Mitchell. Improvvisamente Jones passa con lo zombie alle spalle, così Mitchell manda un soldato per inseguirli mentre si occupa delle ragazze. Jones riesce a nascondersi in cucina e quando lo zombie sta per prenderlo, l'amico di Mitchell appare per sparargli, per poi essere assalito dal nuovo zombie e viene infettato anche lui. Jim assiste a tutto questo e all'interno di un armadio, Jones piange perché non può aiutarlo. Dopo che gli zombie se ne sono andati, Jones cerca di scappare, ma Jim lo trova e lo uccide. Poi Jim entra in una porta segreta per nascondersi dagli zombie, che invece prendono le scale. Al piano superiore Anna riesce a scappare da Mitchell ed entra nello spogliatoio per trovare una foto di suo padre tra le sue cose. Quando sente arrivare uno zombie, si nasconde dietro uno specchio appena in tempo. Lo zombie è confuso dal suo stesso riflesso e se ne va. Tornando a Jim, lui corre per la villa alla ricerca delle ragazze ed entra in una stanza dove trova un soldato nascosto perché senza proiettili. Jim ignora le sue richieste e salta dalla finestra, lasciando che il soldato venga divorato. Correndo sul tetto, Jim vede la stanza dove Mitchell sta per approfittare di Selena ed entra. Mitchell prende subito Selena in ostaggio, ma Mitchell gli salta addosso e lo attacca furiosamente. Jim gli sbatte la testa contro il muro e poi lo getta a terra per schiacciargli gli occhi. Inoredita da questa violenza, Selena fai il suo macete e quasi uccide Jim pensando che sia uno zombie. Ma la sua esitazione permette a Jim di dimostrare che sta bene e i due si baciano. Improvvisamente Anna colpisce Jim con un vaso pensando che anche lui sia infetto. Fortunatamente Jim sta bene e il tiro corre subito fuori, ma quando si avvicinano al taxi di Frank trovano West all'interno. Dicendo di volersi vendicare dei suoi uomini, West spara a Jim, così Anna guida rapidamente il taxi all'indietro verso l'edificio. Lo zombie che prima era incatenato rompe il finestrino posteriore e trascina fuori West per vendicarsi. Anna parte rapidamente con Jim e Selena. I cancelli che circondano la villa sono chiusi, ma Anna le attraversa comunque. I ricordi di Jim su ciò che accade di inseguito sono confusi, ma ricorda che Selena gli ha praticato la reanimazione in ospedale e lo ha implorato di vivere. 28 giorni dopo, si scopre che il trio ha vissuto in un cortege in campagna. Selena ha lavorato a sodo per cucire un sacco di stoffa e quando sentono passare un aereo, il trio si precipita fuori con la stoffa, rivelando di aver fatto delle lettere giganti che scrivono Ciao. L'aereo se ne accorge e torna indietro per salvarle. Se il video ti è piaciuto, iscriviti, commenta e lascia un like. Grazie per aver guardato. Grazie a tutti.